Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Desktop V-Box Workmate Recensione. V-Box Workmate Pacchetto 3 per la casa, ufficio, famiglia, desktop PC, USB 3.0 computer, completo pacchetto con 22 monitor, altoparlanti, tastiera mouse totale, impacchettare. 3.3 GHZ Intelli 33220 Dual Core Processore 4 Gran Bretagna Off-DDR3333 MHz RAM 1000 Gran Bretagna Hard Disk Scheda grafica Booster Chip integrato in processore Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, Clicca sul link nella descrizione sottostante Grazie per la visione